In un momento difficile per i giovani c'è bisogno di spiritualità, di comunità. Per questo la comunità evangelica beneventana è corsa ai ripari con un evento dedicato ai giovani per invogliarli a credere prima di tutto in loro, perché i giovani sono forti. Noi stiamo organizzando questo evento sabato 27 febbraio alle ore 20 alla Chiesa Cristiana Fiumi di Grazia. Sarà un evento molto imbrontato sui giovani. Infatti il tema della serata è giovani siete forti. Come giovani, come loro, abbiamo attraversato anche noi dei problemi di solitudine, momenti in cui ci sentivamo soli. E possiamo dire con molta sincerità che l'unico che è riuscito davvero a risolvere questi problemi non è stato uno psicologo, ma è stato l'avere accettato Cristo nella nostra vita. Attraverso la parola di Dio, attraverso anche il rapporto personale che i giovani possano trovare con Dio in questa serata, speriamo che ce ne saranno tanti, possono vivere una vita diversa, una vita nella quale si sentono accettati, si sentono amati, si sentono compresi. Il rapporto con Dio non è un rapporto passivo, ma è un rapporto molto attivo. Dio non chiede ai giovani, ma non chiede neanche ai giovani, di stare fermi immobili. Anzi, Dio dice alle persone di fare, di impegnarsi. Impegnarsi per se stessi, impegnarsi per il prossimo, impegnarsi per la società. Quindi anche con il gruppo dei giovani siamo un po' attenti, cerchiamo di far conoscere anche queste realtà. Grazie a tutti.